In questi giorni sono in arrivo nelle case dei terramani i bollettini per il pagamento della tassa su rifiuti per il 2019, che stanno però riservando ulteriori ed amare sorprese. Dopo l'incari registrati in passato, infatti, molti utenti hanno segnalato l'ennesima impennata della quota da versare per la raccolta differenziata porta a porta gestita dalla Team. Infatti, molte persone in questi giorni si stanno rivolgendo al Comune per segnalare l'incremento della Tari e protestare, una vicenda su cui però il sindaco D'Alberto è intervenuto per spiegare il fatto che l'aumento non è di peso dalla nuova amministrazione. Ma l'essere assolutamente legittimo, comprensibile, sì, noi ovviamente per ragioni di chiarezza e anche per dare un'informazione compiuta e completa abbiamo rappresentato questo, che gli avvisi che stanno pervenendo adesso sulla Tari 2019 riguardano, o meglio, sono calcolati sulla base della tariffa 2018, ovvero quella approvata dal commissario e che scaricava il 60% del costo della tariffa sulle famiglie. Non abbiamo ancora approvato, siamo in fase di approvazione del bilancio, la tariffa di questa amministrazione, della nuova amministrazione. Ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare ad un avvio del percorso di riduzione, quindi nel corso dell'anno ci sarà il conguaglio, con il conguaglio finale avremo la reale quantificazione della Tari 2019 e che sconta però almeno un decennio di gestione del servizio rifiuti, di gestione soprattutto dei rapporti tra il comune e la terramambiente assolutamente viziato, che ha comportato, nonostante le promesse di chi ci ha preceduto, solo ad un incremento della tariffa. Noi stiamo faticosamente lavorando per avviare la riduzione, dopo l'approvazione del bilancio avremo i dati completi e sapremo qual è il vero impatto della Tari del 2019.